Nuove succulenti uscite. Stiamo parlando di Animal Desire, dei Magic Jukebox. Come ben sapete, di uscire e far baldori e con gli amici non se ne parla. E allora perché non ascoltarci una nuova band? Un Jukebox magico è proprio quello di cui abbiamo bisogno. Se poi nel repertorio contiene musica punk, non può che gasarci. Perché il punk non è morto e ce lo dimostra questa band che sa fare il suo e si difende benissimo nel 2021, riuscendo ad arrivare alle nostre orecchie più fresca che mai. Un caro saluto e alla prossima!